Siamo qui con Lucrezia, volontaria dell'associazione Sala in Zucca che si occupa di ludoterapia. Oggi, 25 maggio, avete portato uno spettacolo all'interno della clinica pediatrica. Giusto, abbiamo portato lo spettacolo del cabaret Lumière, un spettacolo che ha visto coinvolti molti personaggi, molto curiosi alcuni anche misteriosi. I bambini sono stati coinvolti in particolar modo da uno strano e capriccioso leone, ma anche dalla misteriosa Madame Lumière. E come hanno reagito i bambini, il pubblico, anche i genitori a questo spettacolo? Sono stati molto incuriositi, tanto che al termine dello spettacolo hanno voluto salutare i loro personaggi preferiti. Bene, grazie Lucrezia per le tue parole. A presto. Arrivederci.